Buonasera, buonasera a tutte amiche ed amici. Questa sera volevo condividere con voi una veloce riflessione su una domanda che ci facciamo tutti, tutti noi che siamo interessati da certe cose, che conosciamo ormai tanti argomenti e che abbiamo capito che lo Stato e il sistema in generale ci mente, che è fondamentale la domanda e cioè a volte uno si chiede, immagino non sono il solo, ma perché? Perché fanno tutto questo? E ci perdiamo in tanti motivi di ordine di scienza e tecnologia tolta, di ordine commerciale, economico e quant'altro, tanti tanti interessi in ballo sicuramente, però la mia riflessione è diversa e mi viene in realtà dall'avere unito alcuni discorsi, infatti voglio salutare un amico Francesco, un nuovo amico che ho conosciuto quest'estate, in realtà una persona che ho conosciuto da poco ma che mi piacerebbe diventasse un amico perché è veramente una gran testa capace di ragionamenti molto alti e infatti ha fatto una riflessione banalissima, in realtà semplicissima, ma come me forse anche voi non ci avevamo molto ragionato sopra, invece lui l'ha detta come una banalità che forse non è, ecco. E di che cosa parlo? Delegato a quello che sta succedendo in questi momenti e quindi al perché fanno tutto quello che stanno facendo, no? Come ho detto mille motivi di cui abbiamo mille volte discusso, però una riflessione in più, quando parlavo con questo signore mi ha fatto notare una cosa in maniera semplicissima, beh la classe media non è mai esistita, adesso la stanno semplicemente rieliminando, stanno riportando le cose a come sono sempre state. Ecco, questo triste, semplice, in realtà da comprendere semplice il concetto, la classe media non c'è mai stata, è una verità, se ci pensiamo, o almeno nella storia non ce l'hanno mai raccontata una classe media, quantomeno è vero che anche in passato ci raccontano di numeri di popolazione più bassi, ma di sicuro anche in percentuale la classe media, come l'abbiamo conosciuta noi, è una novità, è una grande novità e la cosa che mi ha portato questa serie di riflessioni in realtà è qualcosa che è accaduto anche proprio in questi giorni, e cioè come tutti saprete Robert Kennedy, figlio del fratello di Kennedy, quello famoso JFK ucciso in tutte le immagini che ricordiamo in bianco e nero, ecco quello che stava correndo per presidente, come sapete ha resigned, cioè ha deposto le armi in favore di portare i suoi voti a Trump e quindi ha fatto quest'altra parola inglese, questo endorsement a Trump che vuol dire che ha dato il suo benestare, la sua benedizione e quindi sperando di passare così tutti i suoi voti a Trump e quindi sta facendo delle interviste dove racconta proprio questo suo, spiega perché questa sua decisione e nello spiegare tutto questo fa un discorso parlando della sua origine, come sapete il partito dei Kennedy è sempre stato storicamente il partito dei democratici, motivo per cui Robert Kennedy in questo momento è molto mal visto da gran parte della famiglia Kennedy che rimane democratica e non vuole assolutamente spalleggiare né Trump né la decisione che ha preso Robert Kennedy di andare insieme con Trump, cioè di spalleggiarlo, di fare questo nel punto endorsement. E dicevo in questa sua spiegazione che ripete in varie interviste, in realtà c'è sempre questo concetto, il fatto, lui lo spiega per farci comprendere che si è allontanato dal partito democratico perché i democratici non sono più il partito che aveva i valori di una volta e fondamentalmente spiega che il suo partito era, dice, l'idea di mio padre e di mio zio, era proprio quella di creare un partito che potesse sostenere e ampliare e fare prosperare la classe media. Quindi, dice, i democratici a quel tempo si battevano per la classe lavoratrice, per questi valori qui, adesso sono corrotti, c'è la censura, tutte cose corrette, quindi lui si è, secondo me, ha fatto benissimo, staccato dai democratici e da tutta quella roba di Biden, Harris, che sappiamo, e di chi c'è dietro. Il problema rimane questo della classe operaia, che effettivamente non è così chiaro a tutti, ma a livello storico, se pensiamo agli antichi egizi, ai sumeri e a tutte le popolazioni che ci sono state, in realtà sia prima che poi dopo, fino all'impero romano e Gengis Khan e quant'altro, c'erano, oppure anche in Cina, in Oriente, dove c'erano comunque le caste reali e c'erano poi, in quel caso, pensate all'India, proprio le caste, no? Però, ecco, anche nel caso delle caste c'erano gli untouchables, c'erano poi i vari gradi di nobili fino ad arrivare ai reali. Così, anche negli altri paesi, ma una vera classe media è servita solamente nel momento del capitalismo, del grande consumismo, che serviva ad alimentare se stesso fondamentalmente, no? Ad alimentare le grandi aziende produttrici che non sarebbero state alimentate se noi non avessimo comprato. Però, appunto, imbambolati dall'epoca dei primi caroselli tv, abbiamo iniziato lì e non ci siamo più fermati, siamo diventati una società di consumatori ed è la classe media quella che consuma. Credetemi, non sono né i ricchi e ovviamente nemmeno quelli veramente in situazioni di povertà. Quindi, chiudo questo video, chiudendo questa riflessione così, come sono partito dall'inizio, perché stanno facendo questo, cioè tutto quello che sta accadendo in questo periodo, quelli che stanno andando, sta scomparendo la classe media, quelli che stanno andando più in difficoltà, per assurdo non sono certo gli aborigeni, no? Nelle foreste che vivono come natura vorrebbe, quelli non usano nemmeno il denaro, quindi per quelli i problemi non se ne creano, la casa se la ricostruiscono di materiali locali in pochi giorni, se non ore, in alcuni casi. E i ricchi, come sapete, ci speculano da queste cose, quindi diventano ancora più ricchi. C'è stato per l'unico momento nella storia che è quello che abbiamo vissuto noi, i nostri genitori e poi prima ci sono state le guerre mondiali, i nostri nonni in qualche caso, però è stata l'unica forchetta di spazio-tempo di allargamento di questa classe media che è una novità socioculturale, non c'è mai stata su larga scala, quindi io chiudo lasciandomi ancora dentro di me con l'interrogativo e lasciandolo a voi. Quindi secondo voi, fatemelo poi come dicono quelli bravi, fatemelo sapere nei commenti, secondo voi la classe media sparirà oppure risorgerà dalle sue ceneri?